ok oggi 19 settembre 2022 secondo giorno di gol show quindi oggi secondo giorno di mio lavoro andiamo in studio gt channel il compagno mio si chiama ires vedi ciao ciao ires ci vediamo più tardi in gol show va bene ok grazie siamo entrati nella studio anche ecco la nostra modella siamo entrati in studio eccola susi studio oggi 19 settembre 2022 secondo puntata del gol show allora tra poco cominciamo in onda il nostro direttore dottor emilio villano dj ospiti camera in studio andiamo per la regia dove controllo come si chiama come si chiama come si chiama ciao E' vero? E' vero Caetanino Stefano Buongiorno 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 Nostro Mister Ventura Ciao Adesso sono allungiato La trasmissione Che non va Piano piano Ok Buongiorno 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 e mentre vivano le rivoluzioni la rivoluzione questa è un anno di freddo spirituale sinceramente anche quando torneranno compare a chiesa saranno giocatori forse virtuali uno che ha messo in me è un anno di mobilità quindi capito com'è che torna a compare 5 anni fa chiesa per l'ultima sentiamo l'avventura che per anni è stato sfonda a Granata quindi insomma forse è una prospettiva diversa in onda non possiamo parlare buonasera ti rivediamo dopo questa grande vittoria ciao capitano ciao ciao quella della tua postazione la tua fascia e a proposito di te Regni di Anari la Regna Repubblica Mario Corfo un uomo amato sia dalle donne che dagli uomini il mitico unico e grande Cino Pigliezzo buonasera grazie a tutti grazie a tutti per l'attenzione e 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 per l'attenzione buonasera grazie a tutti e per l'attenzione e per l'attenzione e per l'attenzione e poi il fine di villaggio buonasera alla nostra tribuna buonasera tribuna buona tribuna tribuna buona buona tribuna ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale di Chana che si chiama Chana Video scrivete sì sì sì